Ciao dreamers, sognatore o sognatrice di una vita migliore economicamente parlando ma non solo benvenuto su Maxima S Business, questo è il canale in cui parlo principalmente di criptovalute ma anche altre forme per aumentare una parte dei propri risparmi per non lasciarli marcire in banca con uno scopo educativo quindi non come consiglio finanziario ma con un'attitudine di far conoscere il processo che ho fatto e che sto facendo in modo da poter fare delle proprie valutazioni e utilizzare una parte dei propri risparmi come ho già detto per aumentarli e fare da supporto al proprio stipendio se si è dipendenti come me oppure al proprio reddito se si è un lavoratore autonomi oggi vediamo in questo video un veloce e velocissimo tutorial su come andare ad inserire un token all'interno di Metamask quando questo non è già presente è una cosa che è stata chiesta nei commenti di altri video precedenti in cui si parlava di Metamask di Uniswap di come utilizzare Metamask anche con Binance Smart Chain che vi consiglio di vedere se non l'avete già visti ve li linko qua su e quindi come fare questa procedura lo vedremo velocemente dopo la sigla eccoci qua ma prima di iniziare vi chiedo di spaccare il pulsante like se questi video vi piacciono e vi sono utili sto cercando di far crescere questo canale formativo ed educativo con dei tutorial utili soprattutto senza andare ad inseguire poi la news del momento, il kickback eccetera lo faccio per passione e mi diverto anche farlo insieme a voi approfitto anche per dirti che nella descrizione trovi i miei link al canale twitter dove spesso metto delle notizie sempre sul mondo delle criptovalute il telegram anche il canale telegram e quindi potete continuare a seguirmi anche su questi canali ma andiamo subito a vedere come inserire un token all'interno del nostro Metamask eccolo qui lo apro solitamente abbiamo dei token già presenti o alcuni che possiamo inserire manualmente approfitto proprio per riprendere il commento di un utente che chiedeva come fare a inserire il token super farm dopo che evidentemente l'ha comprato su uniswap facciamo un esempio ecco qui il token super eccolo qui quindi a questo punto cosa faremmo andremo a fare quest'operazione di swap che adesso non farò e avremo il token super però andando poi in metamask diciamo ma dove sarà finito il mio token super me lo sono perso non lo vedo non appare quindi come facciamo è semplice praticamente possiamo andare semplicemente ad aggiungere un nuovo token andiamo giù in fondo aggiungi token e possiamo cercarlo qua ma non è detto che esca infatti se lo cerco non esce quindi vado su token personalizzato e vado a inserire l'indirizzo del contratto il simbolo del token e la precisione dei decimali dove prendo questi dati posso andare su coingeco ad esempio che è una delle piattaforme più utilizzate per questo ricordo che ho fatto un video anche su come installare utilizzare browser brave con il proprio wallet per ottenere guadagni mentre si naviga interessantissimo torniamo al token da inserire super farm e siamo qui sul token super farm andremo a vedere brevemente anche di che progetto si tratta è molto interessante allora su coingeco qui nella riga contract vediamo il contratto possiamo copiarlo e incollarlo qui su aggiungi token ok token personalizzato ok super in automatico si compila il simbolo e la precisione dei decimali facendo avanti ce lo troviamo tra i token ma coingeco fornisce anche questo fantastico tool click shortcut per farlo in automatico infatti cliccandoci sopra in automatico ci va a caricare il token che abbiamo cercato quindi facciamo aggiungi token ed eccolo qui che ora avremo su metamask il token super ovviamente è a zero però perché non ne abbiamo però possiamo comunque acquistarne come abbiamo visto prima cos'è questo token super farm il progetto super farm e non sono andato a studiare quindi consiglio sempre anche a voi quando sentite trovate su twitter su youtube altre persone che parlano scillano dei token il consiglio veramente più sincero che posso dare è quello di andare a studiare il progetto non andare a comprare questa coin o quell'altra perché l'ha consigliata qualcuno che riputiamo eccezionale in passato ho comprato dei token che venivano comunque scillati e venivano consigliati da grandi personaggi reputati chissà cosa e poi sono falliti miseramente perdendo dei soldi io per fortuna ne ho acquistati altri facendo ricerche anche con un po' di fortuna che hanno recuperato anzi più che superato il costo della perdita super farm è una come dice il titolo è una cross chain defined protocol che permette agli utenti di distribuire crypto quindi possiamo creare delle vere e proprie crypto e anche nft quindi non fungible token per chi non sa cosa significa invito a documentarsi magari farò un video anch'io se necessario nei prossimi giorni e nelle prossime settimane quindi sia crypto che nft senza necessità di sapere una riga di codice quindi tutto attraverso un'interfaccia visual permette per quanto riguarda il mondo nft ha delle caratteristiche a quanto pare molto superiori a quelle che altre piattaforme che tradano che vendono e che scambiano gli nft come rari come open see ovviamente come don't buy meme ha delle caratteristiche superiori come ad esempio il farming dell'nft come l'utilizzo attraverso il multiverse dei videogame quindi persone che giocano a questi videogame per collezionare arrivare a collezionare questi nft inoltre permette anche il farming delle cripto e la generazione di token rc20 senza sapere codice quindi possiamo creare una vera e propria token nostra che abbia si spera un qualche scopo o funzionalità altrimenti non avrebbe molto senso quindi è molto interessante è stato lanciato a fine febbraio si può trovare ovviamente su uniswap anche vediamo un po' su quale altro market eccoli qui one inch quindi tutte piattaforme decentralizzate che permettono lo swap da generalmente ethereum o altri token quindi è un progetto molto molto interessante vedremo come si evolverà perché potenzialmente i progetti sono tutti molto interessanti questo a quanto pare verrà lanciato anche su polkadot se non mi sbaglio perché è listata su polcastarter è un video in cui parlo anche di polcastarter che ti linko anche sopra se sei interessato che sono progetti startup su polkadot che ambiscono ad avere una parte delle paraceni di polkadot ecco quindi andremo a vedere come si evolverà questo progetto perché tanti progetti ovviamente possono andare bene altri invece per molti motivi che possono essere hackeraggi oppure motivi interni al team possono fallire quindi il token così tanto scillato o diciamo potenzialmente farci diventare milionari cade miseramente come è successo ieri a paid network che tra l'altro è stata una delle coin più scillate da famosi youtuber e non faccio nomi compra qui compra lì e in mezz'ora è stato hackerato e completamente abbattuto dal mondo cripto quindi adesso non sappiamo se il team come si comporterà cosa farà e quanta colpa abbia avuto in questo e nel mondo cripto molto insidioso è da considerare sempre sempre per qualsiasi cosa si acquisti o su qualsiasi progetto si investa qualsiasi progetto può immediatamente fallire miseramente come può farti diventare ricco probabilmente ma questo non lo sappiamo a prescindere se no saremmo tutti ricchi ti ringrazio per aver seguito questo video spacca il like se ti è piaciuto clicca su iscriviti o la campanellina se vuoi ricevere avvisi per i prossimi video ciao dreamer ci vediamo alla prossima